sincronicità è un concetto ideato da jung per descrivere delle coincidenze che accadono nella nostra vita con un chiaro e profondo significato non causale quindi non ci sono non è che un evento causa l'altro però che manifestano un chiaro evidente profondo importante significato per noi young descrisse per esempio il caso di un suo paziente che aveva ordinato un bell'abito blu ma che alla fine ricevette un abito nero che gli venne proprio consegnato il giorno della morte della moglie ecco questa era una sincronicità un evento appunto casuale che non era correlato chiaramente in alcun modo con ciò che purtroppo stava accadendo nella sua vita quindi ricevere questo abito nero questo errore del commesso della persona che gli aveva confezionato l'abito che però ecco è come un messaggio potente forte importante che gli arriva in un momento della sua vita appunto in cui questo errore dell'abito nero davvero va a essere perfettamente allineato con ciò che lui stava vivendo gli esempi di sincronicità possono essere tantissimi ecco se mi stai ascoltando ora su youtube o anche su instagram insomma ecco dovunque tu mi stia ascoltando metti tranquillamente nei commenti anche casi di sincronicità che hai vissuto anche tu sono sicuro che saranno tantissimi ecco proprio perché le sincronicità avvengono nella nostra vita molto interessante riguardo però è la visione che jung aveva e che ha così costruito anche sulla base di questi eventi che si verificano così spesso nella nostra vita per esempio ecco sto pensando ad una persona che non vedo da tantissimo tempo ed ecco che squilla il telefono oppure mi trovo all'estero in un paese lontano penso ad una persona perché mi viene in mente per qualche motivo e poi l'incontro proprio per strada ecco questi sono degli esempi di sincronicità che spesso si verificano nella nostra vita oppure ecco abbiamo in mente tutta una serie di cose poi magari accadono delle cose leggiamo una frase o c'è una certa circostanza che ci richiama esattamente a ciò che noi stavamo pensando tanti anni fa mi ero interessato a quei bellissimi libri di gian paul culiano sui viaggi dell'anima su come la nostra anima possa effettivamente fare delle esperienze a volte anche extracorporee ecco questo era un argomento che mi interessava davvero molto ed era affascinante vedere come nel mentre che facevo questi studi mi comparivano davanti come per magia tantissimi libri che avevano a che fare esattamente con lo stesso argomento andavo in libreria biblioteca e così quasi per magia mi comparivano davanti questi libri che poi magari anche nelle bibliografie avevano tutta una serie di correlazione l'uno con l'altro ecco questo è un altro esempio le sincronicità avvengono molto spesso e secondo iungo questo accadeva per il fatto che noi tutti esseri umani facciamo parte realtà tutta la natura tutto il creato facciamo parte di un grande inconscio collettivo di questo grande serbatoio di conoscenze di esperienza di vita che tutti ci connette noi tutti possiamo attingere a questo inconscio collettivo e di fatto lo facciamo quotidianamente nella nostra vita in realtà ecco questa visione di jung la visione antica una visione che affonda le sue radici nei testi sacri più antichi del pianeta secondo i veda per esempio che spesso mi piace citare in quanto testi davvero fonte di grande conoscenza tutto è uno nella visione ad vaita dei appunto di questa corrente molto antica ecco che tutto è uno tutta la manifestazione della stessa realtà questo il concetto base anche della spiritualità più in senso più ampio come può essere intesa ecco che questo concetto quindi di questa connessione che noi poi ritroviamo nella nostra conoscenza moderna per esempio nella fisica ecco appunto nella banalmente nel concetto di energia ecco noi sappiamo che tutta la creazione energia noi siamo di fatto un flusso di energia cosciente il nostro corpo nello percepiamo così com'è solido con una sua consistenza come la realtà intorno a noi ma come appunto già ai stai insomma la fisica c'è chiaramente mostrato tutta la realtà non è altro che energia energia con stati vibratori differenti allora ecco che l'idea appunto che questo grande flusso di energia sia un flusso nel quale noi siamo completamente immersi facciamo parte di esso in realtà non c'è una separazione alcuna se non quella data dalla nostra coscienza dalla nostra identità dal nostro senso dell'io e quindi che cosa accade cade che quando ci sono delle esperienze delle situazioni per noi importanti che hanno una certa intensità una certa quello che accade che si possono manifestare una serie di coincidenze che però appunto sono sincrone cioè che che palesano come una un'intenzione una conoscenza rispetto a quello che sta accadendo ecco io penso quella persona incontro quella persona ecco questo accadimento mi dà l'idea che in me ci fosse in qualche modo la conoscenza di questo incontro la conoscenza di poter in effetti incontrare questa persona alcuni ri di riducono questo questo pensiero ad una questione statistica per cui statisticamente potrebbe accadere che però ecco quando una persona vive una condizione di sincronicità anche l'esperienza soggettiva di senso e di significato che percepisce è estremamente intensa per cui è difficile poi andare a ridurre semplicemente ad un mero calcolo statistico che peraltro perde anche un po di efficacia nel senso che è davvero difficile che si possano manifestare così tante sincronicità come a volta avviene in alcune fasi della vita appunto per una questione meramente statistica più spesso ciò che in realtà accade è che questi eventi che si presentano nella nostra vita richiamando la presenza di un disegno anche superiore sono momenti eventi che hanno una finalità evolutiva importante young come grandi altri della storia pensiamo per esempio socrate aveva una visione teleologica l'idea ovvero che tutto ciò che accade nella nostra vita abbia un fine abbia uno scopo come se il nostro essere qui oggi ora in questa situazione della nostra vita con queste persone intorno a noi con questa società intorno a noi con tutto ciò che accade abbia uno scopo evolutivo per la nostra anima per la nostra interiorità per quella parte più profonda di noi stessi allora ecco che quello che accade può essere qualcosa che noi dobbiamo affrontare per per crescere per evolvere per trasformarci per comprendere maggiormente quello che accade nella nostra vita l'esempio che ti facevo mio personale per esempio per me è stato utile per capire quanto fosse importante esplorare conoscere espandere la conoscenza rispetto anche ad ambiti della mente che normalmente non vengono così esplorati o non sono così conosciuti proprio perché anche questa dimensione legata più alla dimensione più spirituale più profonda dell'essere non sono così comuni ma estremamente importanti per capire effettivamente come noi esseri funzioniamo e che cosa succede dentro di noi un altro autore molto interessante che si è occupato di sincronicità e stanislav groff uno dei massimi esponenti della psicoterapia della psicologia trans pensa transpersonale attuali più moderni e anche lui ha parlato molto di sincronicità e di quanto esse si possano manifestare nella vita facendo anche degli approfondimenti che a mio avviso sono interessanti nel senso che questi eventi così sincroni che accadono nella nostra vita a volte vengono poi interpretati con grande significato dalle persone che le vivono altre volte come stanislav groff per esempio cita in alcuni suoi testi queste sincronicità avvengono ma non sono per forza da seguire non sono per forza qualcosa che avviene che ci deve trasmettere un significato che dai dopo dobbiamo andare ad utilizzare per lui per esempio racconta il suo caso personale dove tutta una serie di sincronicità l'avevano portata a concludere che doveva sposarsi con una donna che aveva conosciuto da poca amica di amici se ne era innamorato e tutto 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 l'universo in qualche modo aveva avuto una convergenza verso questo matrimonio per cui durante un viaggio fatto appunto in europa mi pare che i tempi vivessero mai già in america da tempo ecco facendo questo viaggio incontrarono un prete una situazione particolare insomma in un luogo molto importante specie dal punto di vista proprio religioso spirituale eccetera insomma fece questo matrimonio bellissimo stupendo tutto perfetto dopo poco tempo mesi anni ma veramente poco divorziarono malamente proprio perché per un incompatibilità di carattere molto elevata allora ecco come groff riporta tutte le sincronicità che lui aveva vissuto che l'avevano portato davvero a credere fermamente che quella fosse una cosa che doveva vivere in realtà poi non si sono rivelate assolutamente fioriere poi di abbondanza ricchezza di felicità anzi poi dopo l'hanno portato a vivere una situazione difficile situazione che però forse evidentemente lui doveva vivere che lui doveva sperimentare che lui doveva affrontare proprio per sviluppare poi tutta una serie di altre capacità come per esempio quella di non farsi influenzare dagli eventi che possono in qualche modo suggestionarci della vita ma invece mantenere una visione più reale più concentrata più attinente a quello che effettivamente sta accadendo allora ecco anche in questo caso la sincronicità che appunto accade che davvero spesso deve essere vista e considerata all'interno del nostro panorama interiore sulla base di quella che è la nostra esperienza diretta di quella che è la nostra esperienza soggettiva questo per dire che quando accadono le sincronicità vanno colte così come sono come delle indicazioni non è detto che noi dobbiamo seguire quella strada non è detto che noi dobbiamo seguire quelle indicazioni però quell'indicazione c'è ecco quell'indicazione ci dice che sta accadendo qualcosa che si stanno muovendo delle cose importanti nella nostra vita poi il fatto che noi la seguiremo non la seguiremo a mio avviso almeno ecco per la mia esperienza poi pensiero che sviluppato io negli anni è utile discernere sempre che cosa sia meglio per noi andando davvero a comprendere il disegno più ampio della nostra anima questo è ciò che maggiormente dobbiamo imparare a fare dove le sincronicità che si verificano possono essere interpretate e lette su diversi livelli ma quando io ho una visione di insieme più chiara più strutturata del percorso che io devo voglio seguire nella mia vita ecco che anche quelle sincronicità diventano utili perché vengono lette con molta più facilità e con una comprensione molto più immediata e quindi non rischiamo magari appunto invece di seguire la spada tratta perdendoci poi chissà dove per cui ecco sviluppando questa visione interiore più solida più strutturata di noi stessi del nostro percorso di ciò che effettivamente stiamo vivendo ecco che possiamo accogliere anche questi eventi appunto come segnali che ci guidano nella vita dandoci un'indicazione di massima che poi noi possiamo scegliere se seguire o meno a seconda appunto della coerenza che si hanno con quello che noi stiamo vivendo ecco questi sono giusto delle riflessioni di massima chiaramente come spesso mi capita di dire ciascuno di noi è diverso ciascuno di noi ha la sua storia ciascuno di noi è un universo con tantissime con tantissime cose che accadono all'interno per cui andare a dire come bisogna gestire o meno una sincronicità non è possibile ecco quello che però noi possiamo fare è intanto aprire la mente cogliere questi eventi accorgerci di questi piccoli o grandi segni che accadono nella nostra vita e imparare nel tempo a collocarli nella giusta posizione riuscendo quindi a a capire sempre meglio qual è il significato che si possono suscitare dentro di noi dentro all'essere umano ci sono tantissimi poteri ci sono tantissime capacità noi abbiamo la nostra mente che ha un potere enorme di trasformare la realtà intorno a noi di creare la realtà intorno a noi alle volte capita anche di vedere che le sincronicità accadono sulla scorta del nostro motto di volontà e come se nel certo punto decidessimo che una cosa deve accadere nella nostra vita e poi vediamo che questo accada alle volte lo vediamo anche in un ambito proprio professionale e lavorativo crea un'azienda ci credo ci lavoro ci impegno dedico tutte le mie energie poi le cose iniziano ad incatenarsi proprio come delle sincronicità che mi guidano lungo questo cammino allora ecco a mio avviso ecco anche il nostro potere della nostra mente a questa facoltà di andare a guidare un po tutto ciò che ci circonda proprio sulla scorta di questa visione come ti dicevo di young ma ancora molto più antica di questa connessione profonda con tutto ciò che ci circonda con tutto ciò che esiste intorno a noi dove molto probabilmente la nostra volontà o anche la volontà a volte collettiva può guidare creando questi momenti di sincronicità che colpiscono così tanto il nostro animo ma se noi abbiamo come già ti dicevo una visione chiara una visione consolidata di noi stessi del nostro percorso di quello che per noi è importante ecco che la nostra volontà la nostra determinazione può dare una direzione all'universo andando così a sviluppare sincronicità o coerenza che via via nel tempo ne possiamo sempre più leggere come buone indicazioni di star seguendo il cammino che davvero eravamo destinati in qualche modo a seguire ecco questo è un tema davvero complesso per cui mi auguro che queste riflessioni possono essere di aiuto anche se di certo non sono esaustive sicuramente se vuoi approfondire ti rimango che rimando al libro di hugo proprio sincronicità per così solo andare un po all'origine di questo concetto così così interessante nella tua vita quotidiana di notarle di di coglierle come ti dicevo se vuoi di condividerle anche qui nei commenti così che anche altri possano rendersi conto della bellezza a volte di come le cose accadono nella nostra vita dandoci questo senso questo questa sensazione questa la cosa più bella di connessione con tutto ciò che ci circonda